Una bella iniziativa nata da imprenditori, commercianti e semplici cittadini che hanno a cuore la propria comunità per donare un po' di atmosfera natalizia in questo periodo difficile. Così, tra il verde delle aiuole e il cemento delle strade, è stato installato un presepe in piazza Leonardo da Vinci a Capodorlando. Voglio intanto ringraziare chi ha collaborato con me, i vari Giovanni del negozio Bernava, Francesco della libreria Mosca, Camelo Campisi, in particolare a Fallegna Media Scolare con Giuseppe che ha dato forse di più di tutti. Ma una menzione particolare voglio ringraziare il signor Lembo Salvatore per la cura che ha da questi anni a questa parte, per la villetta che secondo me sarà, penso che deve essere uno stimolo un po' a tutti noi commercianti, per chi è adiacente, ha uno spazio verde, non costa niente, non bisogna farlo tutto in una volta. Noi ha più di cinque anni, sei anni che lavoriamo e ogni anno facciamo qualcosa in piccolo, nel nostro piccolo. La cosa bella è che quando le persone arrivano qua in questo piccolo spazio vedono delle villette pulite, un'aiuola che è un fiore all'occhiello per il nostro quartiere. Voglio ringraziare intanto il comune, l'assessore Fabio Colombo perché ci ha dato lo spazio per poter costruire e più le luci da poter attaccare. Abbiamo cercato di fare questo piccolo presepe, niente di particolare, diciamo, simbolo, oltre al simbolo di cristianetà, abbiamo cercato di dare una parvenza di normalità in questo periodo così brutto. Io in particolare mi occupo della velletta, la curo, è una cosa che mi piace fare e quindi non mi costa tanta fatica. La nostra speranza è che ognuno adotti qualche piccola aiuola qua nel comune di Capodorlando e speriamo che ci siano disponibilità da parte di tante altre persone.